Prosegue anche a Pescara l'arrivo degli ucraini dal paese martoriato dalla guerra, amministrazione comunale che continua a lavorare quotidianamente per l'accoglienza sindaco. Sì, ci siamo organizzati velocemente anche mutuando l'esperienza della pandemia e quindi dell'organizzazione utilizzata. Abbiamo attrezzato nell'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova un centro di accoglienza dove i profughi che arrivano, per la maggior parte bambini, donne e anziani, vengono visitati, rivocillati, accolti per poi sistemarli negli alberghi che abbiamo reperito attraverso convenzioni dirette. Mi sembra che la cosa stia funzionando benissimo, purtroppo questo dramma che stiamo vivendo tutti comporta oggi ma comporterà anche domani l'arrivo di tanti profughi, soprattutto bambini, oggi ce ne sono oltre 400 a Pescara e dobbiamo anche ospitarli nelle nostre scuole, nei nostri impianti sportivi, le associazioni si stanno mettendo a disposizione per fare in modo che questi bambini che vengono dalla guerra, che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di infanzia, i loro legami, possano trovare la giusta accoglienza e anche affetto e attenzione. Quindi le associazioni sportive si stanno organizzando, devo dire che l'idea è partita dalla Curi Delfino ma adesso ci sono anche altre associazioni, per quanto riguarda le scuole siamo in contatto costante con le direzioni didattiche, e con loro stiamo organizzando questa accoglienza perché poi ci sarà necessità di avere interpreti, traduttori, tutto quello che possiamo fare lo faremo, lo stiamo facendo, siamo passati dall'emergenza sanitaria ad un'emergenza umanitaria, un'emergenza sociale e noi diamo tutto il nostro contributo, il Comune è il front office, siamo in prima linea.